Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento, qui abbiamo Robertino che adesso finalmente ha risolto i suoi problemi con il chattering, lo vediamo oggi molto più tranquillo e sereno, vediamo le impressioni a caldo, il warm up come è andato? Le impressioni a caldo, il warm up molto bene, il problema è stato all'inizio, la partenza che era molto viscido e sono incappato in un incidente purtroppo, ho piegato una caviglia ma niente di che. Ma adesso passiamo un attimo alla linea Stefano della regia, buongiorno, siamo qui nel paddock, vediamo i piloti, ce n'è qualcuno che è ridotto un po' male, ce n'è qualcuno che ha ansi ma qualcuno che ha la faccia sconvolta, non si sa cosa ha visto, ecco questa è la situazione alle 11, adesso non lo so, devo sentire Ramon che ore sono, che ore sono? Sono precisamente circa le 12, ecco sono circa le 12, non abbiamo i dati della telemetria ma sembra che la prima fila sia composta da Robertino, Robertino che però è il secondo posto, prima abbiamo il nostro grande amico Beta 1 e K2 e BMW, quarta perché terzo è arrivato il casco e quarta la moto, non si sa cosa neanche, basta basta Grazie 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 a tutti.